Il focus, appunto, dopo 16 anni continua ad essere sul tema delle micro e piccole imprese. Questo perché questa tipologia di organizzazioni rappresenta l'ossatura del sistema economico, direi, e sociale regionale. In questa prospettiva queste imprese hanno necessità di dotarsi di strumenti che siano in linea con l'evoluzione tecnologica e con quello che il mercato richiede. Il contesto non è facile. I dati che abbiamo consentono di evidenziare dal 2008 al 2020 una perdita del PIL direi di tutta l'Italia centrale. Si pone una problematica che non è più solo del mezzogiorno ma anche una frattura a Italia centrale. Teniamo conto che per le marche il PIL è diminuito in questo periodo del 18% circa. Riuscire a dare strumenti per ripartire. Il tema programmazione diventa fondamentale e da questo punto di vista anche infondere ottimismo. Perché dobbiamo pensare che l'economia ripartirà e quindi le nostre imprese devono essere pronte in questo momento di crescita che deve necessariamente esserci. Quindi auspicando una ripartenza come già si sta evidenziando tra fine aprile e maggio per tutte le categorie, perché ricordiamoci alcune categorie ancora oggi stanno lavorando, questo è uno strumento indispensabile per resistere a un contesto economico fortemente mutato. Qui oggi dobbiamo dotarci di nuovi strumenti, di nuove competenze soprattutto per resistere a una situazione veramente complessa. Noi come associazione di categoria, come confartigianato, stiamo evidenziando come bisogna spostare la tassazione, un anno bianco sulla tassazione, spostare il tema relativo ai pagamenti dei mutui. Dobbiamo ricreare quelle condizioni per un fare impresa in Italia. Quindi questo è indispensabile oggi. È del tutto evidente che però servono competenze nuove. Quindi parliamo di un'esperienza con docenti provenienti da tutta Italia di grandissimo livello che daranno quelle competenze e quegli strumenti per cui bisogna prepararsi. E questo è fondamentale oggi in questa situazione, dove veramente fare imprese è molto complesso. E quindi confartigianato da questo punto di vista mette gratuitamente a disposizione dei nostri imprenditori in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, il Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche e tutti quegli strumenti e quelle competenze per provare a resistere.